L'offerta PEC di Aruba include l'app gratuita Aruba PEC Mobile, disponibile su Google Play e sull'Apple Store. Basterà installare l'app, eseguire il login con la tua casella PEC e relativa password e avrai sempre a portata di app il tuo servizio. Grazie ad Aruba PEC Mobile potrai consultare velocemente la posta in arrivo, inviare messaggi di posta elettronica certificata, ricercare messaggi che ti interessano particolarmente. Una serie di etichette ti aiuterà a riconoscere il tipo di PEC che hai ricevuto, notifica, messaggio o fattura. Potrai scegliere se ricevere tutte le notifiche oppure se visualizzare solo i messaggi sulla tua posta in arrivo, leggere le fatture elettroniche, configurare sullo stesso dispositivo più caselle di posta. Insomma, Aruba PEC Mobile è l'ideale per avere le tue caselle PEC sempre a portata di mano. Puoi sapere di più sulla posta elettronica certificata? Vai al prossimo video!